Ecco una cosa che sul cantiere non avete mai visto, l'operaio che mangia una pera, pausa pranzo, rigorosamente seduto sul secchio di plastica, non di sua proprietà ma di proprietà dell'azienda, coltellaccio da cucina, mangia mentre il titolare gli rompe ovviamente, arriva un altro individuo, si intromette tra di noi e se ne va, eccolo, come vedete la sua dentatura neandertaliana, lui mangia mentre il suo collega lavora ovviamente, o fa finta, diciamo che fa finta perché lavora. Com'è? Buonissima, dolce, un saluto per gli amici del canale YouTube. Grazie.